lei ha accompagnato sua madre questa mattina quanti anni ha la signora 90 a marzo fra pochi giorni 90 ieri sera ero un po giù perché gli ho detto mamma come ti viene della prendi è rimasto un po detto ma tu che stai dicendo loro non ci vado no ho detto adesso andiamo stamattina abbiamo preso una macchina apposta siamo venuti e siamo contenti siamo venuti con molto molti con molto contenti abbiamo trovato brava gente lo devo dire forte perché se ne trovano poco ma in questo caso molto bravi tra ieri sera lei ha dormito pensando che stamattina doveva venire qui in ospedale per il vaccino sì sì pensavo e mi aveva paura però l'ho fatta forza fatto il vaccino sì l'ho fatto già tutto a posto la ringrazio che sensazione ha provato quando entrava lago non pensavo che sentiva più dolore però non ho sentito niente ma lei stanotte ha dormito pensando che stamattina doveva fare il vaccino e no mi sono sfruttato parecchie volte ma adesso si sente più tranquillo che ha fatto il vaccino ah sì 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 posso chiedere la sua età quasi 90 no io ho quasi 85 anni ho trascorso normalmente come tutte le altre volte adesso si sente più tranquillo sicuramente mi sono tolto il pensiero di un'eventuale infezione da parte del corinto aspettava con ansia questo giorno ebbe ansia proprio no però aspettavo che mi facessero il vaccino per non tenere più preoccupazioni nessuna folla ma tanta emozione per molti il regalo di san valentino è stata vissuta così la prima giornata il v day per gli anziani la nuova fase che oggi anche in provincia di salerno ha dato il via alla prima dose di somministrazione del vaccino agli over 80 di coloro che hanno presentato la loro adesione all'immunizzazione per il primo giorno 120 le persone prenotate al centro vaccinale covid dell'ospedale ruggi d'aragona di salerno dove è partita la campagna vaccinale per gli ultra ottantenni da parte dell'asla di salerno il piano vaccinazione interesserà oltre 27 mila cittadini residenti in provincia di salerno 5 gli hub di riferimento i ruggi ma anche gli ospedali di nocera inferiore battipaglia polla e vallo della lucania alle ore 10 di questa mattina quando con le nostre telecamere abbiamo avuto accesso al centro vaccinale covid accolti dal direttore generale del ruggi il dottor vincenzo damato e dal responsabile del centro il direttore francesco de caro il totale dei vaccinati era già di 44 nonni di cui 8 ultra novantenni e 36 ultra ottantenni tutto si è svolto senza difficoltà brevi le attese è stato consentito accompagnare in auto le persone che si sono sottoposte al vaccino fino all'interno dell'ospedale nei pressi delle scale che danno accesso proprio al cup prima la registrazione la verifica dei dati poi il braccialetto fino a giungere all'ambulatorio per la somministrazione del vaccino il primo ad essere vaccinato è stato un ultra novantenne